La mia è una storia, diciamo, dove non ci sono scritte particolari, ma il mio piccolo racconta che con la consapevolezza che se fai tutto quello che c'è da fare, l'obiettivo lo raggiungi, la consapevolezza vuol dire anche la forza, la determinazione e la necessità di fare delle scelte anche difficili, ma o fai così o non ce la fai, ma se fai questo l'obiettivo lo raggiungi. Non è una questione solo di talento, io non credo che il talento ti possa far raggiungere gli obiettivi e chiaro che devi avere un po' delle doti in alcune situazioni, ma se usi solo il talento e non ce la fai, il lavoro invece è quello che fa la differenza. Il fatto di accettare e, diciamo, proseguire per la strada che sai che devi affrontare per raggiungere l'obiettivo, e non è un segreto, è una sorta di azione e reazione, se lo fai lo raggiungi. Certo, non è facile, ma questa è forse la differenza tra chi arriva e raggiunge l'obiettivo e chi no.